musica 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 oddio che lag dove esca no eh no dai boom� Marta musica musica uno l'altro il terzo dov'è? vai a sinistra, uno l'avanti eh, pusciatevi le lagne, vai 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 l'altro oh, c'è due punti grazie per il check, eh? niente eh, l'altro tipo vai dai, c'è il boom per te aiutalo ah, vai il boom ah, quanto fa un cazzo avete piegato la resilienza dei umani e ora non la cacciano morti ben fatto, lo ch… ben fatto, l'ho cazzo